Villo all'osso, però siamo qui e quindi sono felici anche i nostri piloti che hanno anticipato questa dispedizione per il nostro corso di fitto. Villo adesso. Allora, c'è tanto tifoseria. Allora, il numero 23 si tratta di Marco Pelizzaro e Marco Belotti, con la persona che c'è tolta della PlaySport. Allora, ci porto a casa una coppetta, terzi di classe R2B, e allora gli andiamo a queste bambine che sono qui meravigliose. Adesso, dove la metti quella coppa lì? Lo metti nella cameretta. Salotto? Sì. Cucina? Un salotto? Un salotto. Un salotto. Non ricamero, viva. No. E allora, perfetto, vediamo. E tu inizi a che veramente questa coppa benissima che vende papà? In camera. No, è così si fa, vedi papà, che bravo. Guarda la mamma. Prego.